Le solite cose, i tifosi dicono che fanno i sacrifici, le riconosciamo i sacrifici che fanno, sono delusi come siamo delusi noi, è normale che ci hanno sostenuto e vorrebbero capire anche loro come vorremmo capire noi cosa sta succedendo. È normale che dopo tante vittorie così è difficile trovare le parole per loro, è difficile trovare le parole per noi, è un momento che si esce soltanto con la vittoria. Credo che il Mise creda in una cosa e la porti avanti, è normale che alcune volte le scelte possano essere azzeccate o no, però lui valuta durante la settimana, vede il lavoro che svolgiamo durante la settimana come lo facciamo e quindi propone la formazione migliore tutte le domeniche. E' solo che ci sta girando male tutto, è un momento che siamo anche deboli mentalmente perché appena ci capita qualcosa nel secondo tempo di negativo, non dico che emolliamo, però tutto ci pesa di più, anche il pallone pesa più che un pallone normale. Quindi è dura, dobbiamo sentirci in discussione tutti e cercare di veramente tirar fuori un qualcosina in più, non so se è tanto o poco, però bisogna comunque tutti, dal primo all'ultimo, farlo.